Ghinelli all'attacco di Rossi, presidente della regione toscana, su due temi fondamentali come la governance dei rifiuti e la sanità. Prima questione Sei Toscana, il gestore di raccolta e smaltimento rifiuti nella Toscana del Sud, che recentemente ha approvato un bilancio in rosso di oltre 4 milioni di euro. La società partecipata all'84% dal comune di Arezzo, che è socio di Sei Toscana, che è Aisaspà, ha votato contro questo bilancio. Credo sia stata l'unica società, l'unico componente, l'unico socio che si è opposto all'approvazione di un bilancio, che gridava e gridava in tetta. Su istanza anche di più di un comune, in assembleato, si è dato disponibilità a parlare con il presidente Cantone. Abbiamo già un appuntamento insieme al prefetto di Siena e al direttore generale per chiedergli addirittura non soltanto il prolungamento del mandato dei commissari, ma addirittura una estensione del loro ruolo, che possa prendere parte anche a certe decisioni di tipo societario, che evidentemente oggi hanno portato a un disavanzo, a una perdita secca di 4 milioni e 2. Sulla sanità Ghinelli punta il dito ancora sugli accorpamenti che la regione vorrebbe portare avanti. 2 milioni e 730 mila euro per tutta la Toscana e quindi 750 mila euro per la Zonona, che a questo punto, dice Ghinelli, rimarrà tale nonostante le rassicurazioni dell'assessore Saccardi. È questo il premio se le conferenze dei sindaci di tutte le zone della Toscana daranno corso agli accorpamenti imposti dalla regione. In sostanza ci pagano, conclude Ghinelli, per realizzare il programma politico di Rossi. La data entro la quale i sindaci dovranno decidere è il prossimo 2 di agosto.